Allora ragazzi, sembra di stare a fare una semplice foto con una fotogramma del Sony Xperia Z1 e invece dietro abbiamo montato lo speciale obiettivo della Sony che fornisce addirittura un zoom da 10x ottico e che ci permette di realizzare foto di un livello davvero eccezionale e praticamente, aspettate che ve la faccio vedere meglio c'è qui il tasto on off, ve lo utilizziamo e c'è la possibilità anche, vedete, di metterlo su un treppiedi sotto e la possibilità di fare uno zoom qui e infatti lo proviamo subito scusate se sbaglio ho premuto un altro tasto proviamo a fare lo zoom ecco, vedete? ho fatto lo zoom e ora sto tornando indietro probabilmente ora è stata usata un po' troppo e c'è qualche scatto ma fidatevi, funziona bene proviamo a fare giusto una foto ora di prova questa è stata la foto scattata dal terreno eccola qui, la foto che avevo appena scattato e devo dire davvero di ottima qualità bene, direi che per la Nokia la Sony Cam sia tutto ci vediamo alla prossima recensione